Ore di accesa discussione hanno permesso di approvare l'adozione del piano di governo del territorio nel comune di Cassione della Presolana. 11 voti a favore, tutto il gruppo di minoranza più l'indipendente Danilo Tomasoni, 4 voti contrari, la minoranza di progetto democratico. Rivendicando il mancato coinvolgimento nelle fasi progettuali del piano, la minoranza ha lasciato l'aula in segno di protesta, annunciando l'indisponibilità a partecipare al voto. Tra i punti cardine del piano di governo del territorio salvaguardare l'ambiente, valorizzare il turismo locale e riqualificare il tessuto urbano. Uno degli obiettivi del piano era la riduzione al minimo di consumo del territorio, obiettivo peraltro raggiunto in quanto il consumo effettivo di territorio è di 100.000 metri quadrati che equivale al 4% di quello che è attualmente l'intero perimetro urbanizzato, quindi una percentuale estremamente ridotta. Oltre a questo obiettivo ovviamente quello di rilanciare le stazioni turistiche sia del Passo della Presolana che del Montepora con interventi qualificati a livello di strutture sportive e appunto ricettive e di servizi. Questo perché ovviamente il discorso occupazionale è al centro dei nostri pensieri. Oltre a questo dal punto di vista dei servizi è stata prevista la destinazione della colonia d'Almine ad una struttura per l'assistenza, struttura sanitaria per persone di una certa età dato che questo problema diciamo delle persone anche sole, anziane col tempo va via via aumentando, questo lo sappiamo ed è una carenza molto sentita sul territorio. Per quanto riguarda la nuova edificabilità da iniziare entro i prossimi cinque anni si prevede un consumo di suolo pari a 217 mila metri quadrati suddivisi in cinque ambiti. Il PGT passa ora al controllo della provincia per le eventuali modifiche. I cittadini nel frattempo possono presentare altre osservazioni anche se non sarà possibile una ulteriore edificabilità.